Da tempo vi sto dicendo che dal punto di vista economico la situazione della Cina è in peggioramento. È ovvio che rispetto ai paesi europei la Cina può tuttora vantare tassi di crescita del proprio prodotto interno lordo, che noi ci sogniamo insomma, tuttavia ormai anche il dragone ha visto rallentare la propria economia. La conferma arriva da Moody's, la più importante agenzia di rating. Sì, ha mantenuto il rating del credito governativo cinese ad A1, ma ha tagliato l'outlook da stabile a negativo. Ufficialmente quindi non si può parlare di downgrade come hanno titolato alcuni giornali, ma è innegabile che il taglio dell'outlook a negativo appunto, beh, è un segnale importante. Io insisto nel dire che la questione Evergrande è molto più grave di quello che si vuole far apparire, insomma. Certo, perché l'importo ufficiale del debito del colosso immobiliare, ossia 300 miliardi di dollari, è certamente un importo ingente, ma potrebbe anche essere sottostimato. E soprattutto, io continuo a ripetere, che se una società come Evergrande si ritrova oggi in queste condizioni, non può essere soltanto imputato, insomma, esclusivamente a scelte sbagliate da parte del management, come naturalmente l'establishment cinese vuole far passare. Certamente i rischi che si è accollato Evergrande saranno stati sproporzionati, ma io non posso ritenere che le altre grandi società del settore invece abbiano tutte adottato politiche aziendali più prudenti. Quindi, insomma, ritengo che il settore immobiliare in Cina al momento sia in profonda crisi, e quindi ha fatto bene Moody's a sottolineare questo aspetto. Inoltre, Moody's ha giustificato il giudizio negativo per quanto riguarda l'outlook dopo aver tagliato le stime di crescita del PIL. Per Moody's, infatti, la Cina nei prossimi due anni crescerà del 4% annuo e mediamente del 3,8% annuo dal 2026 al 2030. Lo so che sono tassi di crescita che noi ci sogniamo, ma sono anche tassi di crescita inferiori alle stime precedenti. Per sostenere la propria economia, il governo cinese negli ultimi tempi ha aumentato in maniera significativa l'emissione di titoli del debito pubblico. Quest'anno si stabilirà certamente il record in quel senso. Naturalmente avere dati precisi e veritieri per quanto riguarda i dati macroeconomici cinesi è praticamente impossibile. Comunque, il Fondo Monetario Internazionale stima che il debito delle amministrazioni locali in Cina ammonti a 12,5 trilioni di dollari. Quindi, di conseguenza, il rapporto debito su PIL, che nel 2019 viaggiava intorno al 62%, oggi si trova ad un livello superiore al 75%. Inoltre, la banca centrale cinese, sempre per dare ancora maggior ossigeno all'economia, ha recentemente ridotto il tasso di riferimento. Insomma, il problema immobiliare, il peggioramento del debito pubblico ed il rallentamento della crescita economica hanno indotto Moody's a tagliare l'outlook alla Cina, che naturalmente non ha gradito la bocciatura. Per il governo cinese, infatti, l'aggravamento delle finanze pubbliche non rappresenta un problema e poi continua, insomma, secondo loro, il PIL continua a crescere a ritmi sostenuti e soprattutto sostenibili. Naturalmente, io non è che possa sapere chi fra Moody's e il Ministero delle Finanze cinese abbia ragione. Tuttavia, guardando alla borsa di Hong Kong, che personalmente ritengo sempre più attendibile rispetto alle borse interne, quelle di Shanghai e di Shenzhen, ebbene, dicevo, se guardiamo all'andamento recente della borsa di Hong Kong, beh, non si può rimanere tranquilli. Negli ultimi tre mesi, infatti, mentre la quasi totalità di tutte le piazze borsistiche mondiali ha fatto segnare, in questi ultimi tre mesi, ha fatto segnare dei rialzi e anche, insomma, abbastanza sostenuti, l'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong è sceso. Potrei quasi dire è crollato, facendo segnare un meno 11,67%. Ma il dato forse ancora più preoccupante è che l'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong vale oggi il 40% in meno di quanto valeva dieci anni fa. Insomma, per concludere, direi che non deve stupire la situazione che sta riscontrando oggi la Cina. È normale per un paese che così in pochissimi anni è uscito da una retratezza economica che possiamo definire atavica, diventando la prima economia al mondo, perlomeno, insomma, per quanto riguarda la manifattura. Ora deve scontrarsi in primis con una bolla immobiliare che deve essere sgonfiata e successivamente deve entrare in una fase da economia matura, insomma, dove ovviamente i tassi di crescita sono decisamente più contenuti. Insomma, quando devi costruire un paese che manca completamente anche delle più elementari infrastrutture, lì è semplice avere tassi di crescita a doppia cifra. Ma dopo, dopo occorre far capire alla popolazione che quei tassi di crescita non sono più sostenibili ed anche la crescita delle retribuzioni dovrà necessariamente rallentare. Cina, benvenuta tra i paesi sviluppati.